Ciao e benvenuto su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi vi presento un video molto molto bello. Un video dove ho droppato 18 bombe più la vittoria reale, ovviamente, e ho giocato ragazzi in solo arena. Devo dire che le arene di questa season rispetto alla season precedente mi sono piacendo molto 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 di più. Sarà per il video del sistema nuovo di ranking che hanno aggiunto? Sarà per il sistema di matchmaking che abbiamo messo? Non lo so, ma devo dire che mi sono piacendo davvero tanto. E per chi mi segue ogni giorno, ma appunto assiduamente su Twitch, che faccio appunto le mie live ogni giorno, sapranno già che io in arena sto nerdando come non mai. Infatti sono quasi arrivata a 20.000 punti in arena, che sono tantissimi. Quindi niente ragazzi, mi è uscito questo bellissimo video che è uno spettacolo, davvero uno spettacolo e ora lo andrete a vedere. Quindi niente ragazzi, come al solito io vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore CROATOMIS nello shop di Fortnite per supportarmi ragazzi. E vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video e di iscrivervi al canale ragazzi. E vi annuncio anche che molto 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 presto arriverà lo speciale dei 200.000 iscritti. Perché sì ragazzi, pensavate che me ne fosse dimenticata? Invece no, non me ne sono dimenticata. Quindi aspettatevelo ragazzi perché sarà un video bomba. Ma adesso pensiamo a questo video perché è uno spettacolo. Quindi ragazzi, godetevi questo fantastico video. Posso bucare qui dentro ragazzi? Vabbè non ho fatto la ciocchia. Vabbè non ho fatto la ciocchia. Ciao! Ciao! Ma sì ragazzi, ma quelli che inseriscono... Ma sì ragazzi, ma quelli che inseriscono... Insultano sono purtroppo delle persone che evidentemente non hanno avuto soddisfazioni nella vita e se la devono prendere con qualcun altro. Gli unici tornei nella loro vita che hanno visto era il torneo di che si fa più sega in una giornata con i loro amici. Quindi va bene così. No fucking problemi, friend! Ok? Oh my god! Ci sta il robottino? Oh cazzo! Aspetta un attimo... Ciao! Grazie a tutti. Quanto mi diverto, cazzo. Grazie a tutti. 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 Oh... Cazzo... Andiamo... Grazie a tutti. All right... Tant'un... Andiamo... E... Andiamo... Andiamo... Vai... 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 Così... Così... Andiamo... Oh... God... E...